Ho notato da tanto tempo che c'è un ascensore che non permette alle persone di salire, le persone disabili, ma è una cosa che da anni, da secoli va avanti così e nessuno ci ha mai pensato, bisogna mai pensarci. Giusto e ci pensiamo noi di Rete Veneta che avevamo raccolto questa segnalazione. Manca un ascensore per disabili negli uffici comunali di Piazza Biade a Vicenza, una richiesta che oggi come promesso portiamo all'assessore competente. Gli spazi sono veramente piccolissimi e quindi bisogna assolutamente intervenire, vero assessore? Sì assolutamente, è un problema che abbiamo ereditato e che vogliamo risolvere quanto prima perché è veramente un disagio per le persone che non hanno la possibilità di fruire dei piani superiori proprio perché non solo oggi è danneggiato ma non è a norma di legge e quindi non garantisce alle persone con disabilità soprattutto in carrozzina di entrare. La volontà è quella di intervenire, faremo un investimento di circa 50 mila euro, dovremo individuare bene il periodo perché per la parte progettuale ci dicono che dovrà comunque stare fermo per tre settimane, quindi una volta individuato il periodo e le risorse interverremo. Bene assessore, allora restiamo in contatto, quali sono i tempi? Assolutamente sì, entro 2020 è nostra intenzione dare una risposta definitiva anche perché giustamente come segnalato dal vostro telespettatore è un problema che conoscevamo e sul quale vogliamo intervenire. Beh, ci fa piacere come sempre essere utili ai cittadini ma anche agli assessori per le segnalazioni che voi da casa ci mandate proprio perché in questo modo insieme, tutti insieme, possiamo migliorare questa città. Quindi noi ci sentiamo e con voi, lo sapete, la questione non finisce qui ma continua.